Eeeh what's up a tutti ciurma e benvenuti alla giocherina in questo nuovissimo episodio su Ghost of Tsushima Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo Per cui mi raccomando spolliciate Eccoci qua di ritorno sioressiori dopo che la volta scorsa purtroppo Yuna è venuta ovviamente a sapere della brutale morte di Taka Abbiamo fatto fuori assieme a lei tutti i mongoli che ci sono parati davanti ragazzi Alla fine abbiamo aiutato Yuna a seppellire il corpo di suo fratello Lei ha detto che quindi ci avrebbe dato una mano da reinavanti perché non aveva più motivo di andare via in Giappone E quindi ragazzi alla fine dei conti questo assalto al castello Shimura per la sua riconquista c'è stato All'inizio sembrava davvero ragazzi andare tutto bene ma purtroppo il Khan non è uno sprovveduto E quindi in un momento in cui gli uomini di Shimura stavano attraversando un ponte Ragazzi sono stati praticamente colti di sorpresa dall'esplosivo Quindi ci sono stati veramente tantissimi morti e alla fine quindi dello scorso episodio c'è stato un litigio Tra Lord Shimura e Jin che attualmente hanno visioni delle cose completamente opposte Perché Jin comunque vuole continuare a seguire la strada dello spettro Quindi ad utilizzare metodi che Lord Shimura non ammette neanche lontanamente Quindi ragazzi bisognerà davvero vedere cosa succederà Quindi ragazzi l'ultima volta ci eravamo salutati qui Jin vuole continuare a seguire i propri metodi pur di riuscire a sconfiggere il Khotun Khan e i Mongoli Quindi mi chiedo se alla fine ragazzi deciderà Ciao Kenji deciderà di agire da solo molto probabilmente quasi sicuramente Credo io volevo un attimino ragazzi visto che ci siamo Esatto Ho qualcosa per ogni anno Parlare con l'armaiola Perché adesso è finalmente possibile ragazzi migliorare l'armatura del clan Sakai Portarla quindi al livello 2 Ci aumenta un pochettino la salute Ne migliora l'aspetto mi sembra di notare da qualche punto di vista Quindi compriamo questo miglioramento Questa vi terrà il sicuro Ok per migliorarla ragazzi ulteriormente Ah possiamo migliorarla ulteriormente Aspettate abbiamo abbastanza materiali ragazzi Quindi incrementa ulteriormente i danni da mischia C'è un aumento enorme della salute E tra l'altro se vogliamo dirla tutta ragazzi Sembra che mi abbiano ascoltato Perché avevo detto la volta scorsa Se avesse un elmo figo tipo quello del padre Tipo con le corna di cervo eccetera Sarebbe il top E infatti con questo miglioramento ragazzi Anche l'elmo viene migliorato Quindi direi di comprare anche questo potenziamento Niente di più forte Perfetto Quindi Ne serve dell'altro per apportare Per comprare l'ultimo potenziamento ragazzi Serve lino e seta Siete effettivamente mi sembra di non averne mai trovata Quindi adesso il nostro aspetto è questo Cioè è bellissima questa armatura ragazzi Veramente molto molto bella Per quanto riguarda il completo Possiamo scegliere di mettere anche questa maschera Io direi di sì ragazzi C'è molto più d'impatto questo vestiario Assolutamente L'elmo Eh sì 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 vedete sì Perché questo era il primo ragazzi Questo col secondo potenziamento E questo con il terzo Ovviamente teniamo questo qua Possiamo colorarlo di rosso Anche l'elmo Ma vi dirò che è il suo perché nero Quindi lo lasceremo così ragazzi Non possiamo comprare un nuovo potenziamento Per la katana ragazzi Perché purtroppo serve del ferro Ferro che io non ho attualmente Quindi Allora è arrivato il momento ragazzi Di andare a parlare con Yuna E le vostre armi Dobbiamo vedere Che cosa ha da dirci Lei adesso eh Ah aspettate Fatemi parlare con Kenji Visto che siamo qua Kenji Kenji Che ci fai qui? Cerco di aiutare i feriti Ma posso solo fargli bere qualcosa di forte Come si consola chi ha appena perso un braccio Non lo so Taka sapeva sempre cosa dire Che dolce ragazzi C'è comunque cerca di dare una mano Per quanto gli sia possibile Quindi qui c'è Yuna Parliamo con lei E vediamo cosa ha da dirci ragazzi Stanno riparando il ponte su ordine di tuo zio Ok Lord Shimura vuole seguire il suo piano a tutti i costi Non importa quante vite costerà Questa gente è qui che lotta Per te Quanto strozzalupo riesci a trovare in un'ora Qualche mazzo Di agli altri di raccoglierne il più possibile Vuoi avvelenare i mongoli? Mi infiltrerò nel castello e glielo farò bere Voglio vedere il Khan strozzarsi col suo sangue Tuo zio lo scoprirà Lo so Taka stava preparando una cosa per te Non lo so se la vuoi ma Beh Se ti dovesse Non succederà Vorrebbe che l'avessi tu Qui inizia questa nuova missione ragazzi Dall'oscurità Eh Quindi Jin inventa un piano ben preciso Questo è tutto lo strozzalupo che c'è È sufficiente Me lo farò bastare Ma cavolo Ma Avevo appena migliorato l'armatura del clan Sakai Adesso ci danno l'armatura dello spettro ragazzi Un dono da parte di Taka per potenziare l'assetto tattico dello spettro Nonché ultima creazione di un buon amico Quindi mi sembra di capire Ok Sì Quest'armatura ragazzi fa sì che ci sia una riduzione della velocità dell'individuazione da parte del nemico E aumenta la probabilità del 15% del fatto che le uccisioni terrorizzino di più i nemici vicini Quindi dovrebbe servire un pochettino di più per agire nell'ombra no? Nell'oscurità effettivamente Quindi per quanto poi io comunque inserirò di nuovo ragazzi questa armatura Perché mi piace veramente troppo Direi per adesso di tenere questa armatura qui Anche insomma in onore di Taka che ce l'ha preparata E qui ovviamente anche la maschera dello spettro Si ispira la maschera Sakai creata per lo spettro da un buon amico Va bene E la fascia dello spettro La fascia del leggendario spettro di Tsushima Se raggiungo quella torre troverò i soldati del Kanna E capirò come avvelenarmi Ok quindi allora Infiltrati nel primo torrione del castello Shimura Evita che venga dato l'allarme Quindi quest'oggi ragazzi ci dobbiamo dedicare con un po' più di attenzione Allo stealth per la gioia sicuramente della sottoscritta E oddio La smettete sto cercando di parlare Quindi Jin ha in mente un piano Quello di avvelenare i mongoli Quindi ragazzi è una cosa che sicuramente il buon Lord Shimura non accetterebbe mai Quindi sono curiosa ragazzi vedremo che cavolo succederà Qua dove mi appendo scusate Rischio di cadere Vado Wiii Mappete Quasi mi spiaccico sulla parete rocciosa Ma sono dettagli C'è un casino qua della quetta Che fa Ma Eh raga Perché se Jin riesce in questo intento Poi con lo zio mi sa che veramente È finita letteralmente La volta scorsa lo zio sembrava dispiaciuto del fatto che avesse Del fatto che avessero discusso Quindi Cioè Magari potrebbe ripensarci no? Ma se Jin continua su questa strada La vedo proprio male ragazzi Proprio male 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 Ma dove mi appendo scusate Non vorrei dire ma Ok perfetto Bastava saltare un pochettino più Con precisione Mi procedemos La nostra avanzata Silenziosa Non si ferma E qua inizia Uccido le guardie senza far rumore Poi parto dall'ultimo piano Ok Perfetto Ecco qua Quindi via uno Evita che venga dato l'allarme Eh ragazzi Eh ragazzi 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 miei La vedo proprio male La vedo proprio male Intanto prendo kunai e provvistine Andiamo ad ammazzare quest'altro tizio Ragazzi Adesso le due spalle Fuori un altro E Quindi Devo salire Mi sembra di aver capito Giusto? Ho capito bene? Non lo so se ho capito bene ragazzi Probabilmente no Probabilmente si Ok si Si può salire di qua Quindi andiamo E Stiamo attenti A non farci scoprire Perché Sarebbe il disastro? Meno male che ha girato di là Intanto mi sono preso un po' di povestine E qua c'è niente? No E' tutto vuoto Ehi Chi è che parla? State zitti Chi è che arrivo Cazzaro la miseria Eh si Tu rimani lì No Eeeh Non mi smentisco mai Signore e signori Potevo salire un pochettino più cauta Effettivamente Va bene va bene Ci riproviamo E Speriamo ragazzi davvero di non far macelli Perché sennò Cioè Posso stare qua Tipo Tre anni Fuori un altro Ok Quindi Come mi comporto con questi qua sopra? Scusate Che è successo? Chi è che ha suonato il corno? Scusate Eeeh Zitti un po' Mamma mia Stata a fare un casino Andiamo a salire ragazzi Facciamo attenzione Piano 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 Dove è andato il grossone? Il grossone Uh è là Niente il grossone è fermo lì ragazzi Allora io farò così Guarda Buona Zitto cavolo Zitto Non devi aprire la bocca Uh Da che parte è girato? Oh Porca paletta Ok ok Vado 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 Un po' Cosa possiamo fare per avvelenarli Quindi Un cappello Riugio Certo che è qui Oh Per la gioia Di tutti Preparare un banchetto Posso avvelenare il latte del canna Farlo bere all'esercito E uccidere tutti i sopravvissuti Non è male come idea Ma va assolutamente contro il codice Fortificazioni Esplosivi Mio zio ci sta portando al massacro Il problema è quello purtroppo Cioè Non si rende conto che E con Cioè andare contro tipo un muro d'acciaio ragazzi Cioè sai che morirai ma Ti ci butti comunque tipo a 300 all'ora Il sentiero Poche difese Molti ripari Devo raggiungere l'airag senza farmi notare Passiamo per il giardino Infiltrati attraverso il giardino Ecco ragazzi Allora quando poi incominciamo con le missioni stealth Lino La cosa potrebbe farsi particolarmente complicata Per me Che sapete benissimo Che non ne sono poi così tanto capace purtroppo Allora il giardino Quindi di regola Devo infiltrarmi da Da dietro Giusto Eh ma come No 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 Non mi posso di certo calare Non mi posso di certo calare Da qui Si è buggato Accidenti a me Ok ragazzi Sono riuscito a tornare lì sopra Il giardino Ok da questa parte ragazzi Perfetto Quindi posso scendere da qui Questo tizio lo potrei assassinare già adesso Ma Evitare che venga dato l'allarme Non è così semplice In effetti Però Quando quest'altro tizio se ne andrà Noi saremo così rapidi e silenziosi Da fare quest' Ecco fatte Io poi Ah mi nascondo in mezzo alle fratte Vedi assieme al cadavere Così che Caio non se ne accorga Ma proprio per niente Capite E quindi posso fare facilmente questo Ok Fuori un altro Attenzione a tutti quanti Io procedo Allora Usa le corde tese sui tetti Per attraversare il campo di battaglia E sarà il di sopra della visuale Nemica Quindi dovremo Appunto utilizzare ragazzi Le corde Possibilmente Eh cavolo Se l'avessi saputo Non sarei scesa Quindi proviamo a salire E dico Ecco Come non detto Come non detto caro Cavolacci Campanellino ragazzi Proviamo ad usarlo Per distrarre questi due idioti Guarda Girati Mi serve che tu ti giri Così io posso fare questo Vedi Oddio Aggrappati Aggrappati Gino Su 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 Oh Ok Adesso Con calma Possiamo procedere Tranquillamente Senza che gli altri ci vedano Perché Vederci Così È tipo impossibile Io sto facendo tranquillamente L'equilibrista Ma nessuno si accorge di me Va bene Questo Lo facciamo fuori Voi Non state vedendo nulla Va bene ragazzi Ok Ok Io vado Gli passo tranquillamente Sopra le teste Come se Nulla fosse ragazzi Ok Li butto qua Stai giù però È Jean Bravo Non vorremmo farci scoprire adesso Questo potrei assassinarlo Ma ovviamente non è il caso Quindi prendiamo queste provviste ragazzi E usciamo da qui Assolutamente Ora facciamogli bere il veleno Al banchetto Ok A veleno e latte fermentato Dei mongoli Sì ma il latte fermentato È acido Cioè è andato a male Veramente Poi ti fa venire una dissenteria O robe simili Quindi Non ho stato io Non ho stato io Col veleno Era il latte Che era già marcio Che è andato a male Ma come cavolo Ci arrivo fin lì Che qua è pieno di gente Scus Mi posso arrampicare Su qualche tetto Per caso O devo fare tipo Un giro Improponibile Della vita Molto probabile Ragazzi Molto più probabile La seconda Quindi proviamo Ad andare Da questa parte Vediamo Un pochettino Dove riesco Ad infilarmi Ragazzi Sperando che nessuno Mi veda Qua è pieno di gente Piene 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 Di gente Oddio Che guaio grosso Ragazzi Che guaio Grosso Grosso Guaio Veramente Devo fare un giro Della miseria Temo di sì Ragazzi Proviamo Ad infiltrarci qua Sperando che nessuno Si accorga Di noi Kunai Qui c'è un tizio Che ok Se ne è appena andato Per fortuna Io farò questo Guarda No Cazzo Sarò la miseria Miseriaccia Miseriaccia Sì sì Lord Cazzo Eh Niente Ho azzardato troppo Ragazzi Questa volta Eh Mi diverto così tanto Proprio così tanto Io proverei a fare un altro giro Ragazzi Cioè perché Oh ii ii Perché di là c'è Un macello di gente Quindi Ho provo ad azzardare Da questa parte In qualche modo Ma Eh pure qua Tutta la gente mi vede Cioè non è Quello La questione Che pure qua È pieno di gente Allora Vattene lì Eh no Vattene lì Un cavolo Eh ragazzi Ammazzo questo Mi vedranno tutti Cioè Caccia miseria Guarda Provo a fare così Ecco Guarda Forse è così È molto meglio Eh ah No Assassina Ma lo devi assassinare Raga Ho premuto Quadrato Vi assicuro Cioè Che cavolo No qua dentro Pare non ci sia nessuno Vediamo se c'è qualcosa Del cuoio Intanto io rubacchio In giro Eh perché Non si sa mai Comunque sono Molto vicina Ragazzi Al latte fermentato Quindi questo giro È stato sicuramente Molto più efficace Dell'altro Quella gente Si sposterà Da lì Sì Quando si volterà Di spalle Spero di poterlo Far fuori Ehi È abbastanza lontano Dagli altri Per poterlo ammazzare Senza che nessuno Se ne accorde No Se ne accorde qualcuno Boni Boni Regà Come sicario Farei veramente Così schifo Che Insomma Non verrei pagata Neanche un euro Io vado Boh Io mi avvicino Non vedo Altre persone Cioè vedo altre persone Non le vedevo qua in mezzo Il punto è Che qua È una parola È una parola Vado Mi vedrà Vengono qui le scorte di latte Versiamo il veleno Sì tranquillo Jean Parla pure tranquillamente Fra te e te Io vado Regà Così Perché sì A caso eh Mi avventuro Passo tranquillamente In mezzo al campo Come se non fossero Cavoli miei Aspetterò che il tizio Se ne vada di nuovo Quindi dovevo avvelenare Anche lì Avrei potuto farlo Prima di venire di qua Ma va bene Ci torneremo Non è un problema Quindi avveleniamo Il latte Molto bene E niente Aspettiamo che L'amico fritz Faccia di nuovo Avanti e indietro Perché devo avvelenare Quei barili lì Ragazzi Ok È il momento di agire Voi non avete visto Niente Assolutamente Io non sono qui Fatto Ora aspettiamo E ne basta Togare È il momento Della cena Forse ha detto così Oh cavolacci È il momento Della verità Della verità Porcaccia miseriaccia Ragazzi La strategia Dello spettro Ha funzionato Li abbiamo fatti fuori Tutti E adesso Il nostro obiettivo È quello di entrare Nel torrione Per affrontare Il canna Mamma mia Che Che devastazione Guarda Ti faccio finire Di soffrire Perché mi sa Che È la cosa migliore Attualmente Quindi Eh regà Niente Sono morti tutti Perlomeno quelli Che erano Che erano qui Quindi A noi questa cosa Va più che bene Allora cuoio Provviste Provviste E niente Bomba di polvere nera Che non posso Prendere Colpo di grazia E Non mi aspettavo Cioè Dovesse affrontare Il canna Così adesso Improvvisamente Da sola Cioè Non me l'aspettavo Ragazzi Mi ha accolta La sprovvista Sta cosa Quindi andiamo E vediamo Che succede Dov'è il canna A nord Ecco Mi ha fatto restare Per prendere La testa Dello spettro Davvero Allora Vieni a prenderla No Avrei potuto Ucciderti Invece Ho convinto Il canna Darti una possibilità Ho ucciso Taka E tu hai ucciso I miei uomini Ho perso Tutto A parte Possiamo Sconfiggere I mongoli Insieme Dopo tutto Ciò che hai fatto Dì alla gente Che ero la tua spia Che dovevo farmi amico Il canna Crederanno allo spesso Basta Ci conosciamo Da una vita Ryuzo Arrenditi E rispondi Dei tuoi crimini Per il nostro bene Non posso Sapevo che Dovevi arrenderti Dovevi arrenderti Sarebbe arrivato Non morirò Per mano Di tuo zio Doveva arrivare Questo momento Ragazzi Per forza E il canna Se l'è data A gambe Tra l'altro Se ne ha hito Se ne è andato A nord Vai 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 Non mi fermerai Ryuzo Già Non avevo Altra scelta Per caccia Miseria Aia Tua sorella Ma ha fatto la finta Il maledetto Questo è il colpo Incredibile Ecco Forza Eh regà Finirà Finirà Che Gino Lo ucciderà Così andrà a finire Lui pagherà Per quello che ha fatto Per averci traditi tutti Aia Eh niente Ryuzo È finita Basta Non ti perdonerò mai Eh Perca miseria Oh È finita ragazza Manca davvero poco ormai Caccia Miseria È finita Basta Jin Ti prego Addio Ryuzo Sapevo che sarebbe finita Così andrà a così Così andrà a finire Jin avrebbe cercato la sua vendetta Era chiaro Ariuzzo. Bene. Il castello è tu. Il Khan va a nord. Lo fermeremo. Mi hai sfidato. Ho dovuto farlo. Per loro. È così che vuoi essere ricordato. Ci ha difesi. Seminando il caos e la paura. Siamo in guerra. E ti comporti come il nemico. Non è il nostro codice. Il tuo codice non può salvarci. Lo shogun esigerà una testa. Ma non deve essere per forza la tua. So bene chi ti ha convinto. Sio. Rinuncia allo spettro. Lei deve essere incolpata di questo scandalo. Di che... Tu sei Jin Shimura. Servo fedele dello shogun. Il mio erete. Mio figlio. Non sono tuo figlio. Sono lo spettro. E sarai condannato per questo. Trova il cane. Jin. Bertaka. Vai! E' andato tutto a quel paese ragazzi. E' andato tutto a quel paese ragazzi. Quanti giorni Sono passati Onore e cenere La cosa che mi ha commosso di più ragazzi è stato vedere che comunque Porto il sake di lord Shimura Per ringraziarvi dell'aiuto nella riconquista Sorveglio il prigioniero Non può fuggire Se aspetti troppo I tuoi amici se lo scoleranno tutto Ho bevuto solo acqua da quando siamo qui Allora ve lo meritate signore Yuna Ha mandato Kenji ad aiutarci sicuramente Kenji Che stai facendo? A voi cosa sembra? Andiamo! Se scappo Non riunirò il nostro popolo contro il Khan E non riacquistarò la fiducia di mio zio Se restate vi manderà dallo Shogun per farvi processare L'ordine è appena arrivato La gente ha bisogno di voi E anche Yuna Dov'è? A nord insegue il Khan tra le lande di ghiaccio Ha la vostra spada Sta aspettando lo spettro Perdonami zio Trova Masako, Norio e Sensei Ishikawa Portali a Omi Apriremo un passaggio e voi ci raggiungete Vi sta aspettando Akin con le vostre cose all'albero sacro Il vostro cavallo è nelle stalle esterne Mi hanno detto di una recinzione danneggiata vicino alla porta Potete uscire da lì Distrarrò gli uomini qui fuori Ma sparirò prima che si accorgano della fuga Grazie a Kenji Una cosa che mi ha commosso di più Come vi dicevo un attimo fa È vedere che comunque Suo zio Ci teneva ragazzi Non so probabilmente ci tiene ancora Cioè ci tiene veramente tanto a lui Cioè arrivare al punto di Farlo dichiarare suo figlio Ragazzi non è uno scherzo Farlo dichiarare suo erede Non è una cosa da poco E comunque glielo si leggeva proprio in faccia ragazzi La tristezza Il dispiacere Nel vedere che comunque Jin Ha continuato a restare fermo Sulla sua posizione E lui non può fare nulla Cioè non ha potuto fare nulla Perché ha detto Purtroppo per questi motivi Devi essere processato E con la morte nel cuore Quindi ti faccio arrestare in pratica Veramente è stato un momento Triste ragazzi Cioè mi ha fatto davvero male Perché anche Jin Comunque vedete Adesso parla ancora di fiducia Nello zio Perdonami zio Cioè si vogliono molto bene Cioè ci tengono molto l'uno all'altra E fa male ragazzi Vedere tutto ciò Comunque posso passare qua sotto Credo Spero Sì E possiamo andare di qua Spero Ehi stai giù Spero davvero non ci veda nessuno Dobbiamo raggiungere il nostro cavallo Ragazzi No attenzione Ok è lì È lì la L'apertura nel recinto Chi è che ha ruttato? Ho sentito un ruttone Allucinante Vabbè Oddio raga Bellissimo Ci facciamo una risata A mezzo a questa Questa tragedia Ok Eccolo L'orso Gai è fuggito Oh Cercate ovunque Provate Capaletta Si sono accorti Della nostra assenza E vai Spero di riuscire a raggiungere il cavallo Senza che nessun altro Si accorga di noi Ragazzi continuano A vedermi State buoni E state fermi No 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 Non c'è nessuno No no Voi due Ai cavallo Voi altri Alla porta E quanta gente Li facciamo passare ragazzi Facciamoli prima andare Comunque Davvero molto bello ragazzi Alla fine Come avevo immaginato Comunque Lo scontro con Riuso Lo scontro finale C'è stato Non poteva essere Altrimenti Uscì No 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 regà Ma dai ma che sfiga Ma giusto c'era quel tipo lì Non l'avevo visto Porcaccia miseriaccia Mannaggia a me Io provo ad avventurarmi ragazzi Anche se La vedo proprio La vedo male 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 Oh chi è No No comment Ok ragazzi Ho provato a fare un giro Un pochettino più largo Però alla fine Sono riuscita sempre Di qua Se stavolta Mi va bene Magari Nessuno riuscirà A vedermi Nonostante io stia passando Letteralmente In mezzo alla strada Ragazzi Ce l'ho fatta Conci qua Ehi ehi No No Non fatelo scappare Convince il giro No 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 Dobbiamo raggiungere Chi Io non ci aspetta No Il cavallo No 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 Cavolo No 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 Vi prego No Oh Sono toki Grazie a tutti. Perdonami per non averti protetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, no, no. Non mi rifiuto, ragazzi. Che cavolo. Che cavolo. Pure questo. Cioè, praticamente... Stiamo perdendo tutto. Nostro zio è incavolato con noi. Ci siamo dichiarati non suoi figli. E mi ammazzano il cavallo. Ma che cavolo. Eh, raga, io non ce la posso fare. Poi in questo modo qua. Cioè, che palle. Mannaggia la miseria. Eh, ste cose fanno male. Fanno male. Che cavolo. Tra l'altro... Tra l'altro... Cioè, vedete... Raga, apposta forse... Avevano fatto sì che si creasse questo rapporto speciale, no? Perché all'inizio te lo fanno scegliere. Te lo fanno scegliere il cavallo. Vuoi quello bianco? Vuoi quello nero? Vuoi quell'altro? Ah, e... E poi ti fanno scegliere anche il nome. E come diceva Mike Vazoski. Non devi dargli il nome. Ma se dai il nome ad una cosa, ti ci affezioni. Lo hanno fatto apposta. I bastardi. Niente, raga. Io oggi mi devo fermare qua. Perché veramente ne ho viste abbastanza di cose che... Che mi hanno fatto male. Perché già prima la questione con lo zio a me mi ha fatto male, ragazzi. Perché si vedeva, cioè, si vedeva che... Che era una decisione presa comunque molto a malincuore. Quella di suo zio, ma anche quella di Jean, comunque. E quindi già lì, eh, si rovina il rapporto. Ma comunque si volevano un mondo di bene. Anche se non se lo sono mai detto direttamente. Ma era palese, era chiaro. Dopodiché, scontro finale con Ryuzo. Lo ammazziamo. Lì, vabbè, non mi ha fatto male, ragazzi. Perché era quello che si meritava. Ce l'aveva tradito. Ce l'aveva voltato alle spalle. Quindi la vendetta era d'obbligo. Quindi vabbè, ok. E poi mi succede questo. Cioè, poi mi imprigionano. Nel tentare la fuga. Sora viene colpito a morte. E ci fanno assistere, ovviamente. Alla sua morte. Non me ne vede, d'endio. Quando ci mettono in mezzo gli animali, ragazzi. È ancora peggio. È ancora peggio. Non le posso vedere, ste cose. Perché proprio mi fanno male. Non ci posso fare niente. E quindi te pareva? Cioè, te pareva? E mo' che cavolo faremo? Non avremmo neanche più Sora, ragazzi, con noi. Cioè, abbiamo perso tutto. In pratica, ok? Ed è proprio qui che è iniziato l'atto 3. Il cui obiettivo proprio principale l'hanno scritto così grosso. Uccidi il Khan. E sto Khan! Maledetto! Raga, ci ha portato via tutto. Cioè, a causa sua. Che alla fine è successo tutto sto macello. E... E... Ci è stato portato via tutto, ragazzi. Non mi chiedo come cacchio può andare a finire una cosa del genere. Io non oso immaginare, ragazzi. Non oso immaginare. Perché può succedere veramente di tutto. E io non so se sono pronta a certe cose. Certe cose mi vengono lontanamente in mente. Spero di sbagliarmi, sinceramente. Perché non le posso pensare, ste cose. E questo gioco, ragazzi, mi sta colpendo emotivamente più di quanto pensassi, sinceramente. Non me lo aspettavo. Non me lo aspettavo, insomma. Dai toni che aveva tipo all'inizio. Non pensavo potesse coinvolgermi così tanto emotivamente. Invece, ragazzi, è una bella storia. Questo è innegabile. E le belle storie che vengono raccontate bene ti coinvolgono per forza di cose. Come sempre, ragazzi, aspetti i vostri pari qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Di obdash a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.